106 casi su 6.893 tamponi processati, tasso di positività all'1,54%. Questo è il dato emerso dal bollettino epidemiologico del 18 giugno. I casi emersi dal report precedente erano stati 90 su 6.845 test con positività all'1,31%. Il totale dei contagi da coronavirus registrati in Puglia sale a 252.757, di cui 9.343 attualmente positivi, 236.813 guariti e 6.601 deceduti. Quattro, di cui uno proveniente dal Foggiano, uno dal Brindisino e due dall'Ecese, sono i nuovi decessi. 888 sono i casi attivi in meno rispetto al 17 giugno, 990 sono i nuovi guariti. Calano da 237 a 225 i ricoverati, 9.188 sono i quarantenati. Su scala provinciale, il dato più alto di giornate è rappresentato dai 25 nuovi casi emersi nel Brindisino. 19.687 è il totale dei pazienti registrati nell'area messapica da inizio pandemia. Numeri simili nel Barese e nel Tarantino, zone nelle quali sono stati registrati rispettivamente 25 e 20 nuovi casi. 95.056 è il totale dell'area del capoluogo di regione, 39.324, quello della zona ionica. 19 sono i nuovi positivi nel Foggiano, 45.107 è il totale della capitanata. 26.852 è il dato complessivo dell'Ecese, zona nella quale i nuovi casi del 18 giugno sono 12. Dato più basso di giornata è quello della BAT, zona nella quale i nuovi positivi sono 7 ed il totale 25.554. A chiudere il quadro è un caso dalla provenienza non nota, 2.603.966 è il totale dei tamponi processati in Puglia da inizio pandemia.